Ciao bambini, come state? Oggi vi voglio raccontare la storia di Pop il Dinosauro. Pop mangia tutti i colori. Quando era piccolo Pop, il dinosauro beveva solo latte, del buon latte, tutto bianco. Gnam, gnam! Un giorno scopre le banane su un albero. E le prova ad assaggiare. Oh, wow! Sono diventato tutto giallo. Più tardi, trovate i piselli. E anche quelli, li prova ad assaggiare. Mmm, sembrano buoni. Ehi, guarda! Sono diventato tutto verde, come terra nocchietta. Adesso il cielo è tutto grigio e Lilli balla sotto la pioggia. Wow! Un arcobaleno! Oh, mi piacerebbe tanto essere di tutti quei colori. Nell'arcobaleno c'è l'arancione come l'arancia e il violetto come l'uva. Gnam, gnam! Ora me le mangio. Che buffo! Sono diventato tutto violetto arancione. Oggi, Lilli, proverò ad assaggiare tutti i colori. Il verde, l'arancione, il rosa, il rosso, il violetto, il marrone. Buon appetito, Pop! Ecco fatto! Ora Pop è diventato un piccolo dinosauro di tutti i colori. Ciao bambini! Vi è piaciuta? Alla prossima!